E chiudiamo parlando degli arbitri della sezione AIA di Pescara perché è in corso nel sud Tirolo austriaco in località Steinach il quindicesimo campus estivo targato AIA, appunto Associazione Italiana Arbitri Sezioni di Pescara che coinvolgerà una trentina di ragazzi e ragazze dall'11 al 20 agosto, dunque sino al 20 agosto perché naturalmente è già cominciato. Il campus prevede oltre alla cementificazione associativa e di squadra due allenamenti al giorno di cui uno in quota, test tecnici di formazione, escursioni in montagna sul lago di Resia e la visita alla FIFA a Zurigo dove c'è la sede mondiale del calcio. In più ci sarà come ospite un osservatore arbitrale della UEFA che farà formazione in lingua inglese. Gli arbitri durante il campus riceveranno la visita delle istituzioni locali e sportive, si recheranno al centro olimpionico di Innsbruck per i test atletici. Insomma sarà un'esperienza piena che vedrà gli arbitri coinvolti nel rinascere dalle ceneri di momenti che il Covid ha provato a distruggere ma che con forza sono stati contrastati. Mutuando il simbolo della Fenice come logo celebrativo del campus. L'Aia Pescara è una realtà sportiva che conta attualmente oltre 250 associati.